C'è uno qua? C'è uno qua? C'è uno qua? e vabbò vai in due chiamate pure gli altri dai e vai oh ma quanto cazzo vanno veloci questi ma come cazzo cioè guarda ci siamo ancora in 20.000 oh l'ho ucciso è una ragazza qua quando sta se n'è andato e non ritorna più mi riuscite a curare? no no è one shot è one shot dai è originante ok cuore ok cuore ok cuore ok cuore A presto A presto A presto A presto A presto A presto